32. Sorella e Arti avevano trovato un angolo di paradiso. Entrarono in una piccola capanna di tronchi, nascosta in un boschetto di sempreverdi sulla riva di un lago, con un sottile strato di ghiaccio e nel meraviglioso calore di una stufa a cherosene. Sorella iniziò a piangere quando superò la soglia e Arti ansimò di piacere. «Ecco il posto», disse l'uomo con il passamontagna. C'erano già altre quattro persone nella capanna. Un uomo e una donna, entrambi abbigliati con abiti estivi strappati, che sembravano essere giovani, forse appena oltre i vent'anni. Ma era difficile da dire, perché entrambi avevano gravi ustioni con croste marroni di strane forme geometriche sui volti, sulle braccia e sulle parti del corpo che spuntavano dai lembi strappati dei loro abiti. I capelli scuri del giovane gli arrivavano quasi fino alle spalle, ma la cima della sua testa era bruciata e macchiata di segni marroni. La donna avrebbe potuto essere bella, con grandi occhi azzurri e le ossa sottili di una modella, ma i suoi ricci capelli ramati erano quasi tutti bruciati e i segni marroni incrostati le attraversavano il volto diagonalmente come tratti di penna. Indossava pantaloncini di jeans e sandali e anche le sue gambe nude erano costellate di ustioni. I suoi piedi erano avvolti in stracci ed era rannicchiata vicino alla stufa. Gli altri due erano un uomo più anziano e magro, forse sui cinquantacinque, a cui delle ustioni blu pallido sfiguravano il volto, e un adolescente di circa sedici anni che indossava dei jeans e una maglietta con scritto Black Flag Lives in lettere disordinate e scarabocchiate sul davanti. Nel lobo dell'orecchio sinistro aveva due piccoli orecchini e aveva tutta la sua cresta di capelli arancioni, ma sul suo volto, dalla mascella squadrata, scendevano delle ustioni grigie, come se qualcuno avesse acceso una candela sulla sua fronte lasciando colare la cera. I suoi occhi verdi affossati guardarono sorella e Artie con un pizzico di divertimento. «Vi presento i miei altri ospiti», disse l'uomo con il bassa montagna, appoggiando il suo zaino su un piano di porcellana macchiata di sangue accanto a un lavandino, dopo aver chiuso a chiave la porta. «Kevin e Mona Ramsey», indicò la giovane coppia. «Steve Buchanan», l'adolescente. «E tutto quello che ho potuto tirare fuori dal vecchio è che viene da Union City. Non ricordo i vostri nomi». «Artie Wisco». «Puoi chiamarmi sorella», disse lei. «Tu come ti chiami?» L'uomo si tolse il passamontagna e l'appesi al gancio di un appendi abiti. «Paul Thorson», le rispose. «Cittadino del mondo». Si tolse dal collo le bottiglie di plastica con il sangue e tirò fuori i contenitori di plastica dallo zaino. Sorella era sconvolta. La faccia di Paul Thorson non aveva segni di ustioni ed era passato molto tempo da quando aveva visto un volto umano normale. Aveva lunghi capelli neri striati di grigio e il grigio scendeva anche dagli angoli della bocca nella sua lunga barba nera. La sua pelle era bianca, per la mancanza di esposizione alla luce solare, ma era segnata dalle intemperie e dalle rughe. Aveva una fronte alta, con profonde increspature e l'aspetto ruvido di un amante della vita all'aperto. Sorella pensò che assomigliasse a un montanaro, qualcuno che avrebbe potuto vivere da solo in una baracca e che scendeva a valle solo per collocare trappole per castori o cose del genere. Sotto le sopracciglia nere, i suoi occhi erano di un gelido grigio-blu, circondati da scuri cerchi di stanchezza. Si tolse il parca, che lo aveva fatto apparire molto più robusto di quanto fosse in realtà, appese anche quello e poi iniziò a svuotare i contenitori nel lavandino. «Sorella», disse, «dammi un po' di quelle verdure che ti porti appresso. Gente, stasera mangeremo stufato di stronzo». «Stufato di stronzo», chiese sorella e si accigliò. «Ehm, che diavolo è?» «Vol dire che sei uno stupido stronzo se non lo mangi, perché è tutto quello che abbiamo. Avanti, dammi i barattoli». «Mangeremo quello!» Artie si ritrasse dal mucchio di interiora insanguinate. Le sue costole facevano male e teneva la mano premuta sulla zona dolorante sotto il cappotto. «Non è troppo male, amico», disse il ragazzo con i capelli arancioni, con un pesante accento di Brooklyn. «Ti ci abitui? Dannazione, uno di quei bastardi ha tentato di mangiarmi. Se lo meritano di essere mangiati da noi, no?» «Assolutamente», concordò Paul, mettendosi al lavoro con il coltello. Sorella si tolse lo zaino, aprì il borsone e gli diede un po' delle verdure in scatola. Paul le aprì con un apriscatole e gettò il contenuto in una grossa pentola di metallo. Sorella era brividi, ma era chiaro che l'uomo sapeva quello che faceva. La capanna sembrava essere composta da due sole grandi stanze. In quella stanza sul davanti, insieme alla stufa, c'era un piccolo camino di pietra grezza in cui bruciava un piccolo fuoco che aggiungeva un po' di calore e luce. Intorno alla stanza erano collocate delle candele incollate a dei piattini con la cera e delle lampade alcherosene. E c'erano anche due sacchi a pelo aperti, una branda e un mucchio di giornali ammassato in un angolo. Sull'altro lato della stanza c'erano una cucina in ghisa e una discreta catasta di ciocchi di legna tagliata. E quando Paul disse «Steve, puoi accendere la cucina adesso?» Il ragazzo si alzò, prese una pala accanto al camino e gettò nella cucina dei pezzi di legno in fiamme. Sorella sentì una nuova esplosione di gioia. Avrebbero mangiato un pasto caldo. «E ora adesso?» disse il vecchio guardando Paul. «E ora? Non guardò l'orologio al suo polso. No, non ancora». Continuò a tagliare l'interiore e il cervello e sorella notò che le sue dita erano lunghe e sottili. Aveva mani d'artista, pensò, particolarmente inadatte al compito che stavano eseguendo in quel momento. «Questa è casa tua?» gli chiese. Lui annuì. «Vivo qua da circa quattro anni ormai. Durante l'estate faccio il custode dell'impianto sciistico Big Pines, più o meno a dieci o undici chilometri in quella direzione». Indicò verso il lago dietro alla capanna. «In inverno mi metto comodo qui e vivo di quello che offre la natura». Alzò lo sguardo e fece un sorriso cupo. «L'inverno è arrivato presto quest'anno». «Che ci facevi sull'autostrada?» «I lupi vanno lì per nutrirsi. Io ci vado per cacciare i lupi. È così che ho trovato tutti questi poveretti mentre camminavano lungo l'interstatale Ottanta. Ne ho trovati anche diversi altri. Le loro tombe sono sul retro. Te le mostrerò se vuoi». Lei scosse la testa. «Vedi, i lupi hanno sempre vissuto sulle montagne. Non avevano mai avuto una ragione per scendere prima. Mangiano conigli, i cervi e qualsiasi altro animale riescano a trovare. Ma adesso gli animali piccoli stanno morendo nelle loro tane. E i lupi riescono a sentire l'odore di un nuovo cibo. E così stanno scendendo a frotta verso il supermercato interstatale Ottanta per la carne più fresca. Queste persone sono arrivate qui prima che iniziasse a cadere la neve. Se quella merda radioattiva si può chiamare così». Grugnì con disgusto. «Comunque la catena alimentare è saltata. Non ci sono animali piccoli da mangiare per quelli grandi. Solo le persone. E i lupi stanno diventando davvero disperati e davvero audaci». Gettò i pezzi di interiore nella pentola. Poi aprì una delle bottiglie di sangue e vi versò anche quello. L'odore di sangue permeò la stanza. «Più legna, Steve. Vogliamo che questa merda arrivi a bollire». «Aggiusto». «So che è l'ora», piagnucolò il vecchio. «Deve esserlo». «No, non lo è», gli disse Kevin Ramsey. «Non fino a quando avremo mangiato». Paul aggiunse l'altra bottiglia di sangue alla pentola e iniziò a mescolare con un cucchiaio di legno. «Voi due potete anche togliervi i cappotti e restare per cena, a meno che non vogliate andare al ristorante più vicino sulla strada». Sorella e Arti si guardarono a vicenda, entrambi nauseati dall'odore dello stufato. Sorella fu la prima a togliersi i guanti, il cappotto e il di lana e poi Arti, con riluttanza, fece lo stesso. «Ok». Paul sollevò la pentola e l'appoggiò su uno dei fuochi della cucina. «Alimenta il motore di quella bambola e fai salire il fuoco». Mentre Steve Buchanan si occupava del fuoco, Paul si voltò verso un armadietto e ne tirò fuori una bottiglia in cui restava ancora un po' di vino rosso. «Questo è l'ultimo soldato», disse loro. «Ognuno avrà un buon sorso». «Aspetta». Sorella aprì di nuovo il suo zaino e ne estrasse la confezione da sei di birra olimpia. «Questa potrebbe andare meglio con lo stufato». I loro occhi si illuminarono come candele. «Mio Dio», disse Paul. «Signora, hai appena comprato la mia anima». Toccò con attenzione la birra, come se temesse che sarebbe evaporata, e quando non lo fece liberò una lattina dal suo anello di plastica. La scosse attentamente e fu felice che non si fosse congelata. Poi la aprì e se la portò alle labbra, bevendo un sorso lungo, profondo, con gli occhi chiusi in estasi. Sorella diede le birre a tutti, tranne ad Arti, e divise una bottiglia di perrie con lui. Non era soddisfacente come la birra, ma aveva comunque un buon sapore. Lo stufato di stronzo faceva puzzare la capanna come un mattatoio. Da fuori arrivò un ululato basso e distante. «Ne sentono l'odore», disse Paul guardando fuori da una finestra. «Oh, quei bastardi saranno tutti qua intorno tra qualche minuto». L'ululare continuò e crebbe quando altre voci di lupo aggiunsero note discordanti e vibranti. «Deve essere l'ora ormai», insistette il vecchio dopo aver bevuto la sua birra. «Non è così?» «È quasi ora». Mona Ramsey aveva una voce gentile e amichevole. «Ma non ancora. Non ancora». Steve stava mescolando. «Sta bollendo. Credo che questa merda sia tanto pronta quanto lo potrà mai essere». «Grandioso». Lo stomaco di Arti stava per impazzire. Paul distribuì lo stufato in ciotole di creta marrone. Era più denso di quanto sorella si fosse aspettata e l'odore era forte, ma non tanto come alcune cose che aveva trovato nei sacchi della spazzatura a Manhattan. Quella roba era di colore rosso scuro e se non si guardava troppo da vicino si sarebbe potuto pensare che fosse solo una ciotola di un forte stufato di manzo. All'esterno i lupi ulularono all'unisono, molto più vicini di prima alla capanna, come se sapessero che uno dei loro stava per finire in degli esofagi umani. «Alla salute», disse Paul Torson, e beve il primo sorso. Sorella inclinò la ciotola verso la bocca. La zuppa era amara e granulosa, ma la carne non era troppo male. Di colpo la saliva le riempì la bocca e mandò giù il cibo caldo come se lei stessa fosse un animale. Dopo due bocconi, Arti aveva iniziato a impallidire. «Ehi», gli disse Paul, «se ha intenzione di vomitare vai a farlo fuori. Una macchia sul mio pavimento pulito e dormirai con i lupi». Arti chiuso gli occhi e continuò a mangiare. Gli altri attaccarono le loro ciotole, ripulendole con le dita e tendendole per averne ancora come gli orfani di Oliver Twist. Fuori dalla capanna i lupi ululavano e facevano baccano. Qualcosa colpì la parete e Sorella saltò così tanto da versarsi dello stufato di stronzo sul maglione. «Sono solo curiosi», le disse Steve. «Non preoccuparti, signora, va tutto bene». Sorella mangiò una seconda porzione. Arti la guardò inorridito e si allontanò, con la mano premuta contro il dolore pulsante alle costole. Paul lo notò, ma non disse nulla. Nello stesso istante in cui la pentola fu svuotata, il vecchio disse con irritazione «è ora, proprio adesso!». Paul appoggiò la sua ciotola vuota e controllò di nuovo l'orologio. «Non è ancora passato un intero giorno». «Per favore». Gli occhi del vecchio erano come quelli di un cucciolo perduto. «Per favore, va bene». «Conosci le regole, una volta al giorno, non di più e non di meno». «Per favore, solo per questa volta. Possiamo farlo prima». «Oh, merda», disse Steve. «Facciamolo e facciamola finita». Mona Ramsey scosse la testa violentemente. «No, non è l'ora. Non è ancora passato un intero giorno. Conoscete le regole». I lupi ringhiavano all'esterno, come se tenessero i musi proprio attaccati alle fessure nella porta. Due o più di essi iniziarono una lotta di denti digrignati e ululati. Sorella non aveva idea di cosa stessero parlando tutti nella stanza, ma pensò che qualsiasi cosa fosse doveva essere vitale. Il vecchio era quasi in lacrime. «Solo questa volta, solo questa volta!» gemeva. «Non farlo», disse Mona a Paul con occhi di sfida. «Dobbiamo avere delle regole». «No, affanculo alle regole!» Steve Buchanan sbatté la sua ciotola sul piano accanto al lavandino. «Io dico di farlo e di farla finita!» «Che sta succedendo qua?» chiese sorella, confusa. Gli altri smisero di discutere e la guardarono. Paul Thorson diede un'occhiata al suo orologio e poi fece un sospiro pesante. «Va bene», disse. «Solo questa volta lo faremo prima». Sollevò una mano per respingere le obiezioni della giovane donna. «Saremo in anticipo solo di un'ora e venti non sarà un problema». «Sì che lo è!» Mona stava quasi urlando. Suo marito le mise le mani sulle spalle, come per trattenerla. «Potrebbe rovinare tutto!» «Allora votiamo», propose Paul. «Siamo ancora a una democrazia, no? Chi vuole farlo prima dica sì». «Sì!» gridò all'istante il vecchio. Steve Buchanan girò il pollice in alto. I ram si restarono in silenzio. Paul attese, ascoltando i richiami dei lupi e sorella poteva vedere che stava pensando. Poi con calma disse «Sì, vincono i sì». «E loro?» Mona indicò sorella e Artie. «Loro non votano?» «Cavolo no», disse Steve. «Sono nuovi, non hanno diritto di voto ancora». «Vincono i sì», ripete Paul con fermezza, fissando Mona. «Un'ora e venti minuti d'anticipo non faranno molta differenza». «Invece sì», rispose lei. E poi la sua voce si spezzò. Iniziò a piangere, mentre il marito le teneva le spalle e cercava di consolarla. «Rovinerà tutto! So che sarà così!» «Voi due, venite con me», disse Paul la sorella e Artie, e indicò loro di entrare nell'altra stanza della capanna. In quella stanza c'era un vero letto con una trapunta, alcuni scaffali con libri tascabili e con la copertina rigida, una scrivania e una sedia. Sulla scrivania c'era una vecchia macchina da scrivere royal, malmessa, e un sottile fascio di fogli di carta. Della carta appallottolata era disseminata intorno a un secchio della spazzatura in vimini, stracolmo. Un posacenere era pieno di fiammiferi e della cenere di tabacco era caduta dal fornello di una pipa di radica nera. Un paio di candele su dei piattini si trovavano su un tavolino accanto al letto e una finestra si apriva sul lago sporco. Ma non era l'unica cosa che la finestra mostrava. Dietro la capanna c'era parcheggiato un vecchio pick-up Ford, con la vernice grigia che si sfaldava sui fianchi e sul tetto, e strisce rosse di ruggine che iniziavano a perforare il metallo. «Hai un furgone!» disse sorella eccitata. «Mio Dio! Possiamo andarcene da qui!» Paul guardò il furgone, si accigliò e fece spallucce. «Scordatelo, signora!» «Cosa? Che vuol dire scordatelo? Hai un furgone! Possiamo tornare alla civiltà!» Lui prese la pipa e infilò un dito nel fornello, grattando un deposito di cenere. «Davvero? E quella dove sarebbe?» «Là fuori! Lungo l'interstatale 80!» «Quanto lontano secondo te? Tre chilometri? Otto? Quindici? O magari 80?» Mise via la pipa, le lanciò un'occhiattaccia e chiuse una tenda verde che si trovava tra quella stanza e l'altra. «Scordatelo!» ripetì. «In quel furgone c'è una tazza di benzina. I freni sono andati e dubito addirittura che si accenda. La batteria dava i numeri anche nelle giornate migliori.» «Ma...» sorella guardò di nuovo il veicolo, poi Artie e poi di nuovo Paul Thorson. «Hai un furgone!» disse e sentì che stava piegnucolando. «I lupi hanno denti!» rispose Paul. «Denti a guzzi! Vuoi che quei poveretti di là scoprano quanto, a guzzi? Vuoi ammucchiarli in un pick-up e fare un'escursione attraverso le campagne della Pennsylvania con una tazza di benzina nel serbatoio?» «Certo! Non ci sarà nessun problema a chiamare un carattrezzi quando ci fermeremo. Ci porterà dritto ai distributori di benzina e noi tireremo fuori le nostre fidate carte di credito e ci rimetteremo in viaggio.» Restò zitto per qualche istante e poi scosse la testa. «Per favore, non torturare te stessa. Scordatelo. Siamo qui per restarci.» Sorella sentì i lupi ululare. Il suono volò attraverso la foresta e sul lago ghiacciato e temette che lui avrebbe potuto avere ragione. «Non è per parlare di quel pessimo furgone che vi ho chiesto di venire di qua.» Si chinò e da sotto il letto tirò fuori un vecchio bauletto di legno. «Voi due sembrate avere ancora la maggior parte delle rotelle a posto.» Disse. «Non so cosa avete passato, ma quella gente di là è aggrappata con le unghie alla sanità mentale.» Il bauletto era chiuso da un lucchetto della dimensione di un pugno. Estrasse una chiave dalla tasca dei jeans e lo aprì. «Facciamo un piccolo gioco da queste parti. Può non essere un gioco molto bello, ma immagino che impedisca loro di cedere. È come andare alla cassetta della posta ogni giorno perché aspetti una lettera d'amore o un assegno.» Sollevò il coperchio del bauletto. All'interno, incastrati tra giornali e stracci, c'erano tre bottiglie di Johnny Walker Red Label, una pistola 357 Magnum e una o due scatole di munizioni. Alcuni manoscritti dall'aspetto ammuffito legati con elastici e un altro oggetto avvolto in una plastica spessa. Iniziò ad aprire quest'ultima. «È davvero divertente, davvero.» Disse. «Sono venuto qua nel nulla per allontanarmi dalla gente. Non riesco a sopportarla. Non ci sono mai riuscito. È sicuro come la morte. Non sono un buon samaritano.» E poi all'improvviso l'autostrada è coperta di auto e cadaveri. La gente scappa e io sono immerso fino al collo nella razza umana. «Fanculo», dico io. «Ci meritiamo tutto quello che ci capita.» Aprì l'ultimo strato di plastica e rivelò una radio con una serie complicata di manopole e quadranti. La tirò fuori, aprì il cassetto della scrivania e prese otto batterie. «Onde corte», disse loro, mentre iniziava a infilare le batterie nella parte posteriore della radio. «Mi piaceva ascoltare i concerti svizzeri di notte.» Chiuse il bauletto e fece scattare di nuovo il lucchetto. «Non capisco», disse sorella. «Capirai. Solo non lasciarti sconvolgere troppo. Qualsiasi cosa accada di là nei prossimi minuti. Come ho detto, è tutto un gioco. Ma oggi sono piuttosto agitati. Volevo solo prepararvi.» Indicò loro di seguirlo e tornò nella stanza anteriore. «Oggi è il mio turno!» esclamò il vecchio, sollevandosi sulle ginocchia con occhi scintillanti. «Tu l'hai fatto ieri», gli disse Paul con calma. «Oggi è il turno di Kevin.» Porse la radio all'altro uomo. Kevin esitò. Poi la prese come se stesse prendendo un neonato in fasce. Gli altri si raccolsero intorno a lui, tranne Mona Ramsey, che si allontanò petulante. Ma anche lei guardava suo marito con eccitazione. Kevin afferrò la punta dell'antenna ritratta del radio e la estrasse al massimo. Sporgeva di sessanta centimetri, con il metallo che scintillava come una promessa. «Va bene», disse Paul. «Accendila.» «Non ancora», disse l'uomo esitando. «Per favore, non ancora.» «Andiamo, amico.» La voce di Steve Buchanan tremava. «Fallo.» Kevin girò lentamente una delle manopole e il lago rosso si spostò fino a un'estremità del quadrante delle frequenze. Poi appoggiò il dito su un pulsante rosso e lo lasciò lì, come se non sopportasse l'idea di premerlo. Fece un respiro improvviso e brusco e il suo dito premette il pulsante d'accensione. sorella trasalì e anche tutti gli altri trattennero il respiro, trasalirono o si spostarono. Dalla radio non usciva alcun suono. «Alza il volume, amico!» «È già al massimo», gli rispose Kevin e lentamente, con delicatezza, iniziò a muovere l'ago lungo il quadrante delle frequenze. Un centimetro e mezzo e ancora un silenzio di tomba. Lago rosso continuò a muoversi, quasi impercettibilmente. I palmi delle mani di sorella iniziarono a sudare. Lentamente, lentamente. Un'altra frazione di centimetro più in là. D'un tratto, un'esplosione di disturbi urlò dall'altoparlante e sorella e tutti gli altri nella stanza saltarono. Kevin guardò Paul, che disse «L'atmosfera è sovraccarica». Lago rosso continuò a muoversi, superando la serie di piccoli numeri e decimali in cerca di una voce umana. Differenti toni di disturbo si alzavano e si abbassavano, strane cacofonie di violenza atmosferica. Sorella sentì il lululato dei lupi all'esterno mischiarsi al rumore dei disturbi, un suono solitario, quasi straziante nella sua solitudine. Intervalli di silenzio si alternavano con i terribili disturbi graffianti. E sorella seppe, che stava sentendo i fantasmi dei crateri neri dove c'erano state delle città. «Stai andando troppo veloce», intervenne Mona, e lui abbassò la velocità del progresso del lago a un livello che avrebbe tentato un ragno a tessere la sua ragnatela tra le sue dita. Il cuore di sorella batteva forte a ogni cambiamento infinitesimale del tono o del volume del disturbo che usciva dall'altoparlante. «Prova la M», gli disse Paul. «Sì, prova la M», disse Steve, chinandosi sulla spalla di Kevin. «Deve esserci qualcosa nella M». Kevin girò un'altra piccola manopola per cambiare l'impostazione da onde corte a modulazione d'ampiezza e iniziò a riportare l'ago rosso di nuovo sui numeri, nel verso opposto. Questa volta, tranne per degli improvvisi scoppiettii o scatti e un lieve e distante suono ronzante, come di api al lavoro, la banda restò quasi completamente morta. Sorella non sapeva quanto ci era voluto a Kevin per raggiungere l'altro lato del quadrante. Potevano essere stati dieci minuti o quindici o venti, ma lo allungò fino all'ultimo lieve fruscio e poi restò seduto con la radio tra le mani, fissandola, mentre una pulsazione regolare era visibile sulla sua tempia. «Nulla», sussurrò e premette il pulsante rosso. Silenzio. Il vecchio si mise le mani sul volto. Sorella sentì emettere ad arti accanto a lei un sospiro disarmato e disperato. «Nemmeno Detroit», disse senza energia. «Buondio, nemmeno Detroit». «L'hai girato troppo veloce, amico», disse Steve a Kevin Ramsey. «Merda, hai fatto in un lampo! Penso di aver sentito qualcosa. Sembrava una voce e tu l'hai superata senza fermarti!» «No!», gridò Mona. «Non c'era nessuna voce! L'abbiamo fatto troppo presto ed è per questo che non c'è stata una voce! Se l'avessimo fatto al momento giusto, secondo le regole, avremmo sentito qualcuno questa volta, ne sono certa!» «Toccava a me!» Gli occhi imploranti del vecchio si voltarono verso Sorella. «Mi rubano tutto il turno!» Mona iniziò a singhiozzare. «Non abbiamo seguito le regole! Abbiamo mancato la voce perché non abbiamo seguito le regole!» «Fanculo!», scattò Steve. «Ho sentito una voce! Giuro su Dio di averla sentita! Era proprio...» Fece per prendere la radio, ma Paul Thorson la sfilò dalle mani di Kevin prima che ci riuscisse. Paul abbassò l'antenna e si voltò, riattraversando la tenda per andare nell'altra stanza. Sorella non riusciva a credere a quello a cui aveva appena assistito. La rabbia montò dentro di lei e anche la pietà per quelle povere anime inermi. Entrò risoluta nella stanza dove Paul Thorson stava di nuovo avvolgendo la radio nella plastica di protezione. Lui la guardò e lei sollevò la mano destra e lo schiaffeggiò in faccia con tutta la furia del giudizio nello schiaffo. Il colpo lo gettò a terra e gli lasciò il segno della mano sulla guancia. Ciò nonostante, mentre cadeva si strinse protettivamente al petto la radio e colpì il pavimento con la spalla. Restò a terra sbattendo le palpebre. «Non ho mai visto una cosa così crudele in tutta la mia vita!» disse sorella infuriata. «Pensi che sia divertente? Ti fa provare piacere farlo! Non ho alzati figlio di puttana! Ti faccio volare fuori a forza di calci!» Avanzò verso di lui, ma l'uomo sollevò una mano per trattenerla e lei esitò. «Aspetta!» gracchiò lui. «Fermati! Non l'hai ancora capito, vero?» «Lo faccio capire io a te, pezzo di merda!» «Calmati! Aspetta e osserva! Poi potrai prendermi a calci se ancora vorrai farlo!» Si tirò su, continuò ad avvolgere la radio e la rimise nel bauletto. Poi fece scattare il lucchetto e spinse il tutto di nuovo sotto il letto. «Dopo di te!» le disse, indicandole di tornare nella stanza anteriore. Mona Ramsey era piegata nell'angolo e piangeva, mentre suo marito tentava di consolarla. Il vecchio si era rannicchiato contro una parete fissando il vuoto e Steve stava dando calci e pugni alla parete, gridando oscenità. Al centro della stanza, Artie era immobile, mentre il ragazzo dai capelli arancioni infuriava intorno a lui. «Mona!» disse Paul, con sorella proprio dietro di lui, spostata su un lato. La giovane donna alzò gli occhi per guardarlo. Il vecchio lo guardò, come anche Kevin, e Steve smise di colpire le pareti. «Hai ragione, Mona!» continuò Paul. «Non abbiamo seguito le regole. Ecco perché non abbiamo sentito una voce. Ora non sto dicendo che ne sentiremo una se seguiremo le regole domani. Ma domani è un altro giorno, no? È quello che ha detto Rossella O'Hara. Domani accenderemo la radio e proveremo di nuovo. E se non sentiremo niente domani, proveremo il giorno dopo. Lo sapete che ci vuole del tempo per riparare una stazione radio e riallacciare l'elettricità. Ci potrebbe volere un bel po'. Ma domani riproveremo. Giusto?» «Sicuro!» disse Steve. «È certo che ci vuole un po' per riallacciare l'elettricità». Sorrise, guardandoli tutti, uno dopo l'altro. «Scommetto che stanno provando a rimettere in onda le stazioni radio proprio in questo istante. Dio, sarebbe un'impresa, vero?» «Ascoltavo la radio tutto il giorno», disse il vecchio. Anche lui stava sorridendo, come se fosse entrato in un sogno. «Ascoltavo le partite dei Mets al radio in estate. Domani sentiremo qualcuno. Ci scommetto!» Mona afferrò la spalla del marito. «Non abbiamo seguito le regole, vero? Vedete? Ve l'avevo detto. È importante avere delle regole!» Ma aveva smesso di piangere e all'improvviso iniziò a ridere. «Dio ci farà sentire qualcuno se seguiremo le regole. Domani! Sì, penso che domani accadrà!» «Giusto», concordò Kevin abbracciandola forte. «Domani!» «Sì». Paul fece girare lo sguardo nella stanza. Aveva un sorriso sul volto, ma i suoi occhi erano addolorati e perseguitati. «Anch'io penso che potrebbe essere domani». Il suo sguardo incrociò quello di sorella. «Non pensi anche tu?» Lei esitò e poi capì. Questa gente non aveva nulla per cui vivere tranne quella radio nel bauletto. Senza di essa, senza avere la possibilità di attendere un momento molto speciale una volta al giorno, avrebbero potuto benissimo uccidersi a vicenda. Tenerla accesa per tutto il tempo avrebbe sprecato le batterie e smorzato la speranza. E lei vedeva che Paul Thorson sapeva che avrebbero potuto non sentire mai più una voce umana uscire da quella radio. Ma a suo modo, era un buon samaritano. Stava tenendo in vita quelle persone in altri modi oltre che nutrendole. «Sì», disse alla fine. «Penso che potrebbe essere». «Bene». Il sorriso dell'uomo diventò più profondo e la stessa cosa accadde alla rete di rughe intorno ai suoi occhi. «Spero che voi due siate giocatori di poker. Ho un mazzo di carte e molti fiammiferi. Non avevate fretta di andare da qualche parte, vero?» Sorella lanciò uno sguardo ad Arti. Era in piedi con le spalle cascanti e con lo sguardo vuoto. E lei sapeva che stava pensando alla buca in cui un tempo era esistita Detroit. Lo guardò per un momento. E finalmente lui si raddrizzò e rispose con voce debole, ma coraggiosa. «No, non ho fretta di andare da nessuna parte. Non più». «Da queste parti giochiamo al poker tradizionale. Se vinco io, posso leggervi le mie poesie e voi dovrete sorridere e apprezzarle. O quello o potete svuotare i sacchi di merda. La scelta è vostra». «Deciderò quando sarà il momento», rispose sorella e decise che Paul Thorson le piaceva molto. «Sembri una vera giocatrice, signora», batte le mani con finta allegria. «Benvenuta nel club».